grazie buongiorno grazie per avermi accolto questa bellissima accoglienza a baku ne a zerbaijan sono ho voluto visitare a zerbaijan e baku per me per la prima volta dopo vent'anni che conosco kamali alizade e ho conosciuto suo marito e i suoi amici e volentieri sono voluto venire a vedere questo bellissimo paese che è la zerbaijan e baku che è stata una bellissima sorpresa ieri c'è stato questo bellissimo concerto note azzurre a cui partecipato con piacere è stato un onore che gli amici di baku kamali alizade e stefano muscaritolo hanno organizzato insieme a united cultures per corbetta per la mia città di cui sono sindaco per me è stato un momento fantastico dei brani bellissimi e il teatro che era pieno di persone interessate di persone diplomatici di studenti di persone hanno tutti applaudito sono tutti entusiasti della musica di stefano e di camalia e sono contento porto a corbetta queste note azzurre suonate a baku in modo meraviglioso e spero che ci sia lo scambio e possano venire a suonare anche in italia questa bellissima musica con la cultura la musica di baku ma ringrazio per questo incontro è stato per me molto interessante e sto incontro molto concreto quanto il responsabile nel dipartimento di aspora è una persona avuto con piacere di conoscere oggi molto concreto e abbiamo parlato di diverse azioni concrete da fare con le persone gli azzeri presenta azerbaijan di baku ma non solo che sono in italia in particolar modo a milano dove c'è la mia città e c'è la mia zona quindi ci risentiremo teniamo in contatto per fare azioni in ambito culturale musicale ma anche per dare supporto agli azzeri a milano e per cercare di fare questo scambio di cultura tra italia azerbaijan che sono due paesi molto simili iscriviti al canale